Ha fatto 100 Michele Mignani, 100 come le vittorie d'allenatore in campionato tra i professionisti, un traguardo tagliato contro il suo recente passato, quel Modena guidato per due stagioni in cinque, l'amaro epilogo dei play-off persi in casa contro l'Albino Leffe e battuto per 4-1 domenica con il suo Bari al San Nicola, partita in cui Maite e compagni sono stati anche più forti di una inferiorità numerica durata 70 minuti, dettata da Rosso per Maiello. Mi è piaciuta tanto quando è rimasta in campo in 10, hanno raddoppiato gli sforzi, poi qualcosa è andato bene perché non possiamo nascondere che il Modena ha avuto un'occasione abbastanza pulita e lì è stato molto bravo, però ragazzi hanno dato tutto e sono stati premiati dal risultato. Il calcio di Mignani è l'elogio della semplicità, una costante nelle sue 202 panchine tra i pro distribuite tra le 185 in C e le 17 in B. La prima vittoria d'allenatore risale al 25 settembre 2016 1-0 sul Livorno sulla panchina dell'Olbia. Quell'anno l'ex capitano del Siena era la sua prima tappa in proprio d'allenatore dopo aver saggiato per la prima volta le sue qualità tra i professionisti a Latina in B da vice di Roberto Breda. I numeri mi interessano poco e il suo mantra hanno un peso però soprattutto se totalizzati seguendo precisi principi di gioco, la difesa quattro e tre uomini nel reparto d'attacco e sapendosi adattare all'avversario come è successo contro Cittadella e Modena. L'idea di alzare un po' Floruscio è quello di togliergli i compiti difensivi e di lasciarlo più libero perché lui poi è un giocatore molto istintivo, molto generoso quindi è uno che copre campo in avanti con grande facilità oggi l'ha dimostrato in quella ripartenza e Benedetti secondo me era giusto confermarlo perché aveva fatto una partita strepitosa a Cittadella e il ragazzo giovane può recuperare però questo non vuol dire che queste non sono scelte definitive, sono scelte dettate dal momento. I modelli di Mignani sono pochi ma buoni, Bruno Bolchi conosciuto a Lucca, Giovan Battista Fabri e Giuseppe Papadopulo toccati con mano come allenatori alla spalla e a Siena fino a Stefano Pioli, ogni tanto lo disturbo diceva dell'allenatore del Milan in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, chissà se lo farà anche nei prossimi giorni per chiedergli consigli su come battere la regina di Pippo Inzaghi nello scontro diretto di sabato al Granillo. Una partita vale tre punti, una partita che mi sembra sia la diciottesima partita di campionato e ce ne sono più di 20 da giocare quindi per me rimane una partita e rispetto a Cittadella abbiamo qualche giorno in più per prepararla.